In questo numero del Tg Ambiente. Caldo da record, temperature estreme in tutto il mondo. Roma, un punto di raccolta di oli usati al porto turistico. Amazon dice addio alla plastica. Milano, una nuova sede a emissioni zero per il gruppo Cup. Caldo da record non solo in Italia ma in tutto il mondo. In tutto l'emisfero nord le temperature sono decisamente più alte della media stagionale, con un aumento dell'anomalia che va dai 15 ai 35 gradi centigradi in più. L'Europa sta vivendo un'ondata di caldo storica, con temperature ampiamente superiori ai 40 gradi. Record mondiali di calura sono stati superati anche al di fuori dell'Europa. In Cina e in Giappone sono stati superati i 35 gradi. A Tromso, in pieno circolo polare artico, sono stati sfiorati i 30 gradi. E in Tunisia sono stati registrati 48,7 gradi centigradi. Nei giorni scorsi alcune località della Siberia hanno toccato il valore record di 32 gradi. L'aumento anomalo delle temperature però riguarda anche il mare. Nell'emisfero sud si fanno invece i conti con il freddo estremo. In Australia e Nuova Zelanda le temperature hanno toccato i meno 4 e i meno 8,6 gradi. Ma non è tutto. Uno studio recentemente pubblicato su Nature dimostra come nei prossimi anni i paesi europei del Mediterraneo saranno sempre più colpiti dalla siccità. Se non verranno ridotte in modo significativo le emissioni di gas serra, entro il 2065 i giorni di siccità potrebbero costituire oltre il 50% della stagione secca. Tutelare il mare per preservarlo dall'inquinamento di un rifiuto pericoloso come l'olio lubrificante usato è l'obiettivo del punto di raccolta degli oli minerali usati inaugurato al porto turistico di Roma, a Ostia. L'area di stoccaggio mette a disposizione dei diportisti due nuovi serbatoi per il conferimento del rifiuto forniti dal CONOU, il Consorzio Nazionale degli Oli Usati. Nel 2021 l'area portuale di Ostia ha visto il conferimento di circa 2600 kg di olio usato, mentre nei soli primi sei mesi del 2022 la raccolta ha raggiunto 1900 kg. L'olio è un rifiuto pericoloso, è cancerogeno, è fortemente inquinante nel mare, forma una pellicola sottilissima che uccide falore e fauna che sono al di sotto, quindi è sicuramente una cosa importante da fare. Dall'altro lato dargli una situazione adeguata per il recupero dell'olio serve anche a noi del CONOU perché in questo modo possiamo poi prendere quest'olio e rigenerarlo, come facciamo tutta Italia, e ridargli nuova vita e riutilizzarlo di nuovo come lubrificante. La tappa sul litorale romano si inserisce nella campagna itinerante di sensibilizzazione per la raccolta degli oli minerali usati, che nel corso del 2022 toccherà i porti italiani, promossa dal CONOU in collaborazione con Mare Vivo, associazione che da quasi 40 anni è attiva nella preservazione degli ecosistemi marini, e ASSONAT, associazione nazionale a prodi e porti turistici. Ancora una volta chiediamo l'attenzione, lo chiediamo ai porti competenti, lo chiediamo ai diportisti, lo chiediamo a tutti coloro che lavorando, diciamo in questo caso, più sui motori, hanno chiaramente, devono avere quell'attenzione specialissima che neanche una goccia deve andare a mare. All'iniziativa del CONOU ha dato il suo sostegno anche il comune di Roma Capitale. Con questi serbatoi che sono installati qui nel porto di Ostia lanciamo la campagna nazionale. Roma vuole diventare veramente un modello per la raccolta differenziata, per tutte le filiere e perché stiamo scommettendo sui rifiuti di Roma. Amazon dice addio alla plastica. D'ora in poi i pacchi ricevuti a casa saranno imballati con meno cellofan e con più carta. Già a dicembre 2021 in Italia la multinazionale statunitense di Jeff Bezos aveva scambiato le buste di plastica contenenti i pacchi con carta e cartone. Ora, nella nuova fase della sua policy ambientale per ridurre l'inquinamento del pianeta Terra, l'azienda di e-commerce ha deciso di sostituire i cuscinetti d'aria in plastica con la carta da imballo riciclata. Negli ultimi sette anni Amazon sottolinea di aver ridotto il peso degli imballaggi di ogni spedizione del 36% e di avere eliminato oltre un milione di tonnellate di materiale da packaging, l'equivalente di 2 miliardi di scatole per gli ordini. L'azienda di e-commerce è cofondatrice e prima firmataria del Declimate Pledge, l'impegno a raggiungere le zero emissioni nette di CO2 entro il 2040. Inoltre si è posta all'obiettivo di alimentare il 100% delle sue attività con energie rinnovabili entro il 2025. Proprio per questo la multinazionale ha acquistato già oltre 100.000 veicoli elettrici, migliaia dei quali già attivi in Europa, così da effettuare consegne senza inquinare l'ambiente. Un'arca che guarda un futuro sostenibile, uno spazio polifunzionale, luogo di aggregazione per la comunità e un punto di riferimento per il quartiere. È la nuova sede del gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, appena inaugurata. La sede è aperta, quindi abbiamo tolto le recinzioni, c'è una grande piazza che è usufruibile e tutto il piano terra è dedicato a un uso misto tra città, comunità e azienda. Per cui ci sarà un bar, ci sarà un asilo nido, ci sarà un foyer per delle mostre, ci saranno diversi spazi che saranno usufruibili da tutti i cittadini. L'idea è proprio di contaminazione tra il nostro lavoro e la cittadinanza, perché la sostenibilità vuol dire crescere insieme, crescere come azienda ma anche crescere come comunità. L'acqua è risorsa fondamentale per la vita, quello della siccità è in questo momento uno dei problemi principali che la regione Lombardia deve affrontare e la dichiarazione di stato di emergenza è sempre più vicina. Si è una richiesta che andrà fatta congiuntamente, perché è drammatica per la Lombardia, è drammatica per il Piemonte, è drammatica per l'Emilia. I cittadini dovranno cercare di darci una mano e di non sprecare acqua, dovranno cercare di ritrovare quelle abitudini che già in passato ci sono state e di prestare attenzione allo spreco. È un momento molto difficile, però per i cittadini non ci sono situazioni di criticità. Noi prendiamo l'acqua totalmente tutta dai pozzi di falda profonda, che in questo momento non hanno criticità. diverse sono invece gli aspetti di attenzione nel mondo, per esempio agricolo, che però non riguarda il consumo umano. Quindi l'acqua del rubinetto è buona, se può bere ce ne sarà in quantità per tutto l'anno e anche nei prossimi anni.